Ciao e benvenuti su MyFootballJersey. Oggi vi presento la versione authentic o player della quarta maglia del Paris Saint Germain per la stagione 21 e 22. Nove mesi dopo aver svelato la divisa casalinga, il PSG e Jordan sono tornati a far parlare di sé con la presentazione della quarta maglia 2021-2022. Permane il legame con l'NBA e i Chicago Bulls. Anche la nuova divisa infatti si rifà alle famose uniformi della franchigia di basket dell'Inois. Il design non presenta novità di rilievo e ricalca quello della prima maglia dei parigini col colletto girocollo abbinato al bordo delle maniche. La quarta maglia del PSG presenta un design total white con finiture blu e rosse basate sullo stesso modello della prima divisa. In termini di design i colori rispetto al kit casalingo sono invertiti, domina il bianco mentre i dettagli sono in rosso e blu navi. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa prende tre stelle. Come già ho avuto modo di dire nella recensione fatta della versione fan, la trovate qua sopra, non mi ha entusiasmato semplicemente perché questa versione non è altro che la prima maglia rifatta con colori diversi. Però devo dire che è fatta veramente molto bene con tutte le rifiniture al posto giusto e vi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per poterla acquistare. Ora fatemi sapere se la maglia vi piace mettendo un like sul video e iscrivetevi al canale per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione player o authentic, quella un po' più aderente dedicata agli atleti.